Ridisegna la base scannalata della colonna ricordando di trasformare le scannalature in un'unica polilinea. Quindi attiva l'area di lavoro, modellazione 3D, e la vista, SEO, assonometrico. Disegna lungo l'asse Z, l'asse della colonna alto 300, e copia le scannalature, utilizzando come punti di riferimento per lo spostamento gli estremi del segmento. Grazie Con lo strumento Scala riduci la circonferenza scannalata appena copiata di 0.7, utilizzando come punto base l'estremo superiore dell'asse. Sulla scheda Modellazione, nel menu Inizio, seleziona il comando Loft. Sulla riga di comando, viene chiesto di selezionare sezioni trasversali in ordine di Loft. Fai clic sulla circonferenza scannalata maggiore. Viene richiesta la stessa operazione. Fai clic sulla circonferenza scannalata superiore ricordando di tenere premuto il tasto Shift per non perdere la selezione precedente. Infine devi digitare un'opzione. Guide, traiettoria, solo sezioni trasversali. Premi Invio per confermare solo sezioni trasversali. Si apre una finestra di dialogo. Premi OK per confermare. Copia il cerchio della base in corrispondenza dell'estremo superiore dell'asse. Dopo averlo copiato, copia il nuovo cerchio a distanza 5 lungo l'asse Z. Scala il cerchio più basso di 0.7 come hai fatto in precedenza per il cerchio scanalato. Seleziona il cerchio e con lo strumento copia, disegnane un altro, sopra di 5 in direzione verticale. Esegui il comando Loft tra i primi due cerchi. Quindi esegui il comando Estrudi sul cerchio superiore. Nella riga di comando viene chiesto di selezionare gli oggetti da estrudere. Fai clic sul cerchio superiore e premi Invio. Sempre sulla riga di comando viene chiesto specificare l'altezza di estrusione. Digita meno 5 e premi Invio. Per visualizzare meglio la colonna, seleziona Zoom, Estensioni. Quindi seleziona sulla scheda Render, Concettuale. Ecco come risulta l'immagine finale. Grazie. 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 Grazie.